preghiera di benedizione benedetto sei tu dio nostro padre sorgente speranza di vita da te riscende la forza dello spirito che trasforma l'aggregato umano in una vera comunità di uomini liberi illumina e proteggi la nostra patria alla quale hai dato nel corso dei secoli tanti segni della tua benevolenza fa che cittadini e governanti mantengano saldi fondamenti della civiltà umana e cristiana di cui si è fatto garante cristo nostro redentore egli vive e regna nei secoli dei secoli grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti il signore sia con voi per la fraterna intercessione dei santi patroni d'italia francesco d'assisi e caterina da siena e della patrona di lentiscosa rosalia da palermo il signore custodisca tutti voi sotto la sua protezione e la benedizione di dio onnipotente padre e figlio e spirito santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre Amén. 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 Amén.